Serata noiosa, nulla da vedere in tv, in questi casi ricordate che lui vi ha lasciato un segnale. Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale o benvenuti se è la prima volta. Questo dovrebbe essere il nostro ventunesimo episodio di Mass Effect Andromeda. Siamo finalmente tornati al Nexus e intendo fare le cose con calma, prenderci tempo che ci serve. Quindi se guardiamo la mappa, qua abbiamo, vedete, dei punti Quindi stiamo ancora guardando le prove contro Spender perché vedete la missione realtà di Drac è ancora attiva. Come vedete, un futuro per i Krogan. Sebbene ci hanno già dato il trofeo, possiamo già potenziare al massimo Drac, così come abbiamo fatto per tutti gli altri. Quindi giusto per completismo, vediamo cosa succede in questo finale. Sempre tra virgolette ragazzi, perché come sapete Andromeda ve l'ha portato al meglio delle mie capacità. Ok, andiamo al centro operativo, alle operazioni. Abbiamo sul gruppone 56 ore di gioco e mezzo attualmente che ho fatto. Terrificante quanto è dispersivo Andromeda. Ed eccoci arrivati. Allora, quartier generale operazioni. Ok, partiamoci qua. Messaggio ricomposto. Parla con Drac su nexus. Sarà probabilmente da sua nipote Cash. Siccome lui è nonno, come sapete, Drac. Steremo ieri qui. Steremo ieri qui. Addison e Kandros decidereanno cosa fare con lui. Sporzio, sport. Non avevo una scelta. Arrone ha detto che mi uccidano. Tu aiuti i mutinieri, Spender. C'era una scelta, proprio lì. Alla cosa che hai dovuto fare è chiedere di aiutare. Inoltre, ti metti tutti altri in rischio per salvare te stesso. Le azioni hanno conseguenze, Spender. Le persone morirono perché di te, Spender. Dio che nessuno si scelta. Non mi scelta nessuno. Non mi scelta nessuno. Tu sei finito, amore. E con il conto, ci saranno ieri a te coni. Tutto che il Pathfinder diceva è vero. E qui c'è la scelta. Un scelta che si scelta con luoghi. E trasferi di credito ai exilii. Questo è stato fatto da l'immunità. Il ha fatto alterare le file, scelta i prodotti, comunicare con loro. Abbiamo una confezione di Arrone. Uno dei exilii. Arrone. On the record this time We've been working with Spender since the mutiny He armed us And now he keeps us supplied As long as we keep heat on the Krogan I don't know why he hates them But he really hates them I can't even begin to fathom The damage he's responsible for Like your hands are clean, Kandros? We all wanted the Krogan gone I just made it easier The Exiles think I work for them Just like you think I work for you That's what real politics looks like Right under our noses Goddammit, Spender! And I hope it's only Spender The Krogan left Spender played both sides Just to get a promotion You couldn't have seen that coming No, no, I was given ample reasons To suspect something I just chose not to You brought it to me, Pathfinder I should have acted then But Tan wouldn't shut up about the Krogan You're getting a chance to fix this now Let's start with taking our side When my Krogan tries to negotiate a better deal with Tam You need us, and frankly, we need you You're right I'll back you up We'll do it right this time So, what about him? Andrà in prigione Lock him up He won't be the last But it'll make a fine example You're just gonna throw me in a cell? Could be worse We could throw you off the station Think about that for a moment In esilio Lo facciamo fuori di Krogan You have no idea How glad I am This business is settled Ok, completato, ragazzi Finalmente completa la storia di Drac Che si era quasi incastrato con noi Come avete visto E ora saliamo un attimo a parlare con Keri Ve la ricordate, Keri? Dai primi episodi La giornalista Ci aspetta per una dichiarazione su Eros Che abbiamo colonizzato Vai Ho preparato il campo My team and I surveyed Eos thoroughly And even stopped the storms The rest is up to the outpost But the old threats are gone Hopefully they can handle any new ones Facing those risks must be stressful How do you relax between missions? Possiamo ancora usare il cuoricino per Romas, ragazzi Prima tu What about you? I can't imagine you putting your camera down for anything I'm not the one history cares about I need a minute to think about my answer And I'd like to know Back home I'd go sailing I love the water Nowadays I play ocean sounds Close my eyes and remember Okay, your turn Studio guardo le stelle I read up on the amazing things we've seen And the Tempest has some incredible views of the cluster This is history too, these little moments between Shots of this remnant text, some narration That completes an episode Thanks for stopping Ok, attendi che Carrie ci chiami ancora per un'altra intervista Signori, siamo pronti ad entrare da Ten e andare avanti con a quest principale Hello again They're waiting for you Careful Ryder made a sentimental choice saving those Krogan He looked at them and thought of you Ryder's his own person Just admit, you don't like Krogan The Pathfinder Ryder, we were just discussing your encounter with the Archon It's true I had to leave some Salarians behind, Director Tan I'm sorry about that Noted Though it is good to see Ark Porcero reunited with the Nexus Yet I have to question what we've gained provoking the Archon like this He had a map showing the location of Meridian Now we have it And a short window to get there It's the control center for the Terraforming Network If we get that working, all our problems are solved Based on what data? This is all alien science The Vault on Aya suggests that Meridian is the key While I appreciate what you've done for our strike teams We're not equipped for a war with the Ket They'll be defending Meridian with everything they've got Possiamo farcia This is how we beat them The Archon doesn't know how to bring Meridian online He can't control the technology I can Vaults maybe We don't know if Meridian works the same way And attacking the Ket Only to find out you're wrong Then there's this Sam of yours We took a chance letting AI get involved Frankly, I'm uncomfortable with It's just how involved it's become I like you, Ryder I really do But I can't support your plan Then I will And so will I I agree Ryder deserves a chance to try I applaud the gesture But you answer to me I hope you understand Ho capito We hear you loud and clear Good That will be all Why am I surprised I don't exactly have a plan B There may be a way Pathfinder Apologies There was an urgent message for you They said your sister is awake What? Go We'll talk later In the tech lab Quindi si è svegliata nostra sorella Sarah È un trigger di missione di quest principale eh Quindi vediamo Sarah Little brother Bring it here Man it's good to finally see you It's good to see anything I was starting to think I'd never wake up Mi sei mancata Well I sure missed having you around We've hit a few rough patches along the way I'm sorry I wasn't there when dad died There's nothing anyone could have done I wasn't even sure I should tell you I'm glad you did Gave me time to let it sink in I'll miss him But I also know he'd be the first to say Get over it Get on with it already Oh there's been plenty of that So I hear Mr. Pathfinder Not by choice Uh huh Then I guess I'll overlook your little embellishment You told me we found home I Yeah yeah I know you meant well But no more lies Okay I'm a big girl I can handle it From the sounds of it You're going to need all the help you can get Careful No way are you fit for duty miss That stubborn skull of yours needs a chance to heal Says who? The Pathfinder That's who? Time to rest up That's an order Specialist Rider Yes sir Pathfinder sir Oh Oh who are we kidding? I saw you with your own Boogers when you were six If you two want to catch up some more That's fine But no getting out of bed Rider this is Pathfinder Ricks We have some ideas about Meridian Come by the Tech Lab as soon as possible Will do Allora Vediamo Operazioni prioritarie Qua abbiamo fatto tutto Il viaggio verso Meridian Decidi il da farsi con altri pionieri Evitiamo di parlare con nostra sorella Che avrà mille e miga sotto menu Quelle cose che posso fare poi secondariamente All'hangar d'attacco dobbiamo andare bene Quindi siamo finalmente tornati sul Nexus Come vedete Stiamo decidendo il da farsi Ecco qua nell'area comune Decidendo il da farsi Allora dobbiamo andare di sopra Riguardo Meridian E l'Arconte Vediamo qua Ok Al laboratorio tecnologico Ci è venuto a fare delle missioni extra Qua Da questa dottoressa Appunto E se non funziona E se non funziona E se non funziona Allora Integra il programma Tempesta Fantasma Sulla Tempest Per aiutare gli altri pionieri Quindi Credo proprio che dobbiamo tornare Sulla Tempest Ora Eccoci qua Vai Ok Partiti Allora Dopo dopo Carlo Stiamo registrando il video adesso Ecco qui Allora Andiamo qua Andiamo qua Convoca equipaggio No Tecnologia dell'esterno è arrivata, è vero, Hager? Esatto, i nostri segnali dei segnali dovrebbero divertire un po' Kett. Non sarà tutti, ma sarà abbastanza. La tempesta è piccola e veloce, non ho bisogno di una grande scuola. Siamo tornati a te, e facciamo un'exitamento prima che le Kett continuano. Una volta che siamo arrivati a Meridian, sarà una squadra piccola. Corri e scegliere i segreti. È proprio dietro gli occhi, è bello tempo per assessare i nostri numeri, i defenso. Allora, raggiungi... è il sistema Tezira. Quindi, portiamoci qua. Partiamo dal Nexus. Ok, ecco qua. È un nuovo sistema, vedete? Quindi, si parte. Non era disponibile fino a questo punto di gioco. C'è un appunto ora. Ok, ecco qua. Chi? Tasira. Vai. On approc. Tragectory looks good. Intraprendi questa missione? Sì. Allora, invece di Drac mi porterò Jarl, ragazzi. Ok. Allora, invece di poter. Allora, invece di poter. Allora, invece di poter. Allora. Sono bravissimo a precipitare. Allora. 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 qui è crashato qualcosa. come vedete. come vedete. Allora. che dovremmo fare tutti e due. In teoria. E lì. Qua c'è il flagello. Ok. Noi passiamo oltre. Stiamo attenti a non andargli addosso. Beh, sì. Decisamente. Ce l'ho studiato in questa zona. It's still heads to see it. Sometimes. As the matter the smoke you주�ess. Ok, comandi dell'applicatore. Ok, in teoria sono dalla nostra parte questi osservatori. Allora ragazzi, siamo quasi a 29 minuti totali. Uh, via che moriamo. Stavo appunto parlando e dobbiamo passare di qua. Siamo quasi a 29 minuti totali. Almeno abbiamo recuperato gli scudi. La situazione qua a Meridian è abbastanza greve, come vedete. Quindi io vi chiedo, se questo episodio, il ventunesimo, con il nostro, come si chiama? Già il che è andato a nascondersi e lasciate lo spazio solamente al nostro IV Reelictum, vi è piaciuto? Lasciate l'arte. Oppure, come vi chiedo sempre, se vi va, iscrivetevi al canale per sapere quando e come caricherò il ventiduesimo episodio, che vi vado a registrare ovviamente subito. Noi ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti voi e grazie ovviamente di aver visto questo video. Noi ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti voi e grazie 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 a tutti voi.